Ciao a tutti ragazzi e bentorni da Yurugai Oggi siamo su Bannerlord Ci stanno prendendo Danustica, gli Azerai Si stanno mettendo in forza Ci hanno già conquistato Hans Falk Non so se si pronuncia così Hans Falk Ci stanno pure prendendo Danustica Perché noi siamo stati impegnati qua a prenderci delle terre E i miei eserciti sono tutti a nord Quindi ci stanno proprio Prendendo Veramente troppo Quindi io adesso lascerò Queste zone e mi dirigerò a sud A difendere E ci avviciniamo verso sud e già ci stanno Un sacco di comandanti Nemici Veramente tanti, ci stanno attaccando Di tutto Mannaggia loro, qua non c'è Non c'è nessuno da prendere Allora Possiamo fare una cosa, o andiamo a difendere Qui ma Siamo comunque lontani Contraattacchiamo Mentre i miei magari Spero scendano Ho due eserciti qua Scendiamo di giù e contraattacchiamo In basso Non so ragazzi Non so perché se vado di qua Poi mi attaccheranno Ortisia Stanno continuando a prendere i castelli qui Ma io voglio Che vadano a sud Eh 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 Tycore No Troppo lontano ragazzi Troppo Troppo Andiamo Andiamo qui Proviamo a prenderci un castello Degli Aserai Vediamo quanti Stanno qui 149 Ce lo prendiamo subito Vediamo se vengono Ad attaccarci Ok Simulo Perché tanto sono pochi Alla vinciamo easy Abbiamo perso un po' di truppo Ma va bene Qualcuna ce la riprendiamo Uppiamo Ok Pronti a Andare nella terra Degli Aserai Anche se qui ci stanno C'è una fazione Che era quella D'Iolandia Che Che non c'è più adesso La ignoriamo Però adesso Andiamo proprio ad attaccare Gli Aserai Diamogli una calmata Nessuno più ci chiede la pace Ragazzi Nessuno Solo guerra Tutti contro di noi Sempre D'altronde penso che il gioco Se non facesse così Sarebbe troppo facile 700 persone Sono tante ragazzi Potrei aspettare 10 giorni E andare Provare a spaccargli le mura Sì Proviamoci ragazzi E senza mura Magari entriamo direttamente Diretti E li sforniamo Visto che non ci hanno Soldati corazzati Ok Stiamo sfondando le mura Ragazzi Non so perché Ah sì Vanno con le catapulte Quindi sono lenti Quello ti faccio Con quanto Con gli Sturgia Pace Vabbè È come se non ci fossero Oh I guzzetti Si sono ripresi Contro il città Hanno 5.000 uomini Questi sono tornati Quasi a 10.000 Occhio 9 città Ce ne hanno fregate 3 Stanno provando a prendere Vostrum Ragazzi Tutte le città Ce le stanno prendendo Mannaggia E io gli prendo questa Ok Le mura sono distrutte Ok ragazzi Io vado Potrebbe essere una battaglia Veramente interessante Ok raga Andiamo Sono il doppio dei nostri Però hanno le mura Sfornate Ma sono comunque Il doppio dei nostri Anche se sono Più Più miseri Come soldati Qui Io entro con tutto il cavallo Potevo avvicinarli in realtà Ok facciamo ma passa Pazza oddio quanti sono No 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 Ok Facciamo 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 Arrivare I miei Facciamo L'arco Ok Ne abbiamo ammazzato Uno così Bella Bella Sì sì Restate così Restate così Vai Alzo tutti così Se vi abbassati gli scudi Quindi ragazzi Io scendo Esco lo spadino Attivo a tutti Di attaccare Ma no da lì Dove cazzo andai Ah ok Si va raga Si va Abbiamo già uccisi I venti Siamo lo scudo Oh cazzo Rivoliggiamo un po Ora si Qua c'è un macello Dovremmo Avere la meglio Ora con i nostri soldati Ma gli Stanno colpendo Andai prendilo Vorrei solo uscire di qua So che sto colpendo Non so chi Trema tutto Mi sono ingastrato Ma Oh Siamo circondati Sono andato troppo avanti Ragazzi Un po' mi ammazzano Stiamoci così Facciamo indietreggiare Esatto Esatto Perché se no ci moriamo Facciamo l'alzare i miei Ok Vai così 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 Ora che non siamo più bloccati Va meglio Indietro Indietro Ci siamo Ribloccati E dai E dai E dai Vado ben indietro Vado ben indietro Vado ben indietro Vado ben indietro Però mi mette indietro proprio Eh Vado bene qua Volevo uscire l'arco Per mettermi indietro E' che li prendo Aia ho pochissima di traga Ciao 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 Fatemi indietroggiare Fatemi mettere qua No ma non ci arrivo comunque Ecco i miei Vorrei entrare e trovarmi lo spazietto Intanto Stiamo Ok Ecco Ecco Quello che devo fare io Stiamo qui Ci passiamo questo Vai Vai Ci passiamo questi Perfetto Perfetto Ok Diamo gli supporto da dietro Diamo gli occhi a questi Siamo senza vita Via 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 Vado dietro Si Due colpi e sono morto Rega No Ma accettate in faccia Quello Mazzia Pensavo di resistere a più colpi Dovevo scappare Ok I miei però sono dentro Stanno entrando Tutti gli altri qua fuori E gli altri qui Ma questi stanno provando A entrare Direttamente da qui Ok si Perché pure da qui è aperto Io potevo entrare da qua Ragazzi Ce ne erano molti di meno Però sono pieni di arcieri Vediamo Come sta andando qui Vorrebbero sfornarli tutti Alcuni già stanno andando avanti Vediamo come se la cavano loro Vediamo come se la cava lui Girati però Non ti far ammazzare Non andare troppo avanti Che ti ammazzano Ma riesci ad ammazzarlo E' uno streccione Dai Johnny No si è fatto ammazzare Da Da un cretino Ok ci pensa più Eh tu ci crepi pure qui eh Stai buttando in mezzo ai leoni Guarda dove i fraccini arrivano Eh però resiste eh Ma ammazza Bravo Francesco Così Ok ha capito che se ne deve andare Capito Bravo 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 Ok Poi l'hanno ammazzati tutti Perfetto Ora i miei vanno alla carica Li dovrebbero sfornare Giusto? Ah ok Gli hanno aperto il portone A quei due che stavano fuori Guarda Guarda loro che si preparano dall'alto C'hanno gli arcieri Maledetti Ragazzi sapete che non lo so Sono veramente tanti ora Loro Sono tanti 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 Noi abbiamo solo I nostri 400 Che adesso non sono più 400 Siamo in 278 Ok Quelli stanno scappando Qua C'è la mischia Nella mischia vinciamo noi Il problema sono con gli arcieri Ammazzarmi il meno possibile Vai francello Scassalo Scassalo Bella Bella che c'è qua il mucchione Eh gli hanno fatto la trappola Gli hanno fatto Gli hanno fatto il trappolo Ok però hanno smesso di lanciare le frecce Quindi Dovrei vincere Gli arcieri si allontanano Ma questi qua Io non capisco Perché non avanzano Se avessero avanzato prima Oh Vabbè sì però Penso che andranno a coprire l'ora Forza rega 254 Ok no Dovremmo vincere Sì sì La vinciamo Perché loro sono stupidi Da rega Questo bel buchetto La voglio vedere Ok scoltiti Una cosa che non mi piace Che quando rompiamo le mura Gli arcieri non entrano I nostri arcieri Restano fuori Dovevamo dare il comando Di stare qua dentro Ok ragazzi Penso sia vinto Siamo presi questa città Alla faccia loro Ora penso che verranno A riprendercela Nostra moglie Ha livellato In forma fisica Puntiferita Ok ragazzi Ho appurato che loro Qui hanno 10.000 uomini Ce ne hanno tutti Concentrati qui E noi come dei pazzi Ci siamo infilati qua Gli abbiamo preso Una città E siamo con 200 uomini 300 Questi ora verranno A farci il culo Ci verranno A prendere questa Dobbiamo Dobbiamo stare attenti Io mi sono chiamato Per sicurezza Dei comandanti Alleati Non vorrei che arrivino A frotte di mille Anche perché Questa città Non ha le mura Cioè ce le ha rotte Quindi entrano fast Ok 87 dei miei E infatti 900 Mannaggia Andiamo qui 900 900 Andiamo qui Ci curiamo prima Allora È difficile Da difendere Questo È difficilissimo Eh sì Facciamo così Sì Perché Ok Siamo abbastanza Però loro Entrano easy Di qua E noi abbiamo Tanti contadinozi Abbiamo 37 Queste sono delle chiavi Che pure E tanti E tanti ce li ho io Nel gruppo Perché non me li sono potenziati Ci sfondano Se non arriviamo a 700 Se non arriviamo a 700 Siamo buggati Ragazzi Siamo buggati È tosta questa Anche perché ne hanno 600 Appresso Vai Siamo le palestre Almeno le paliste Qua Sto gli ditti Io ci penso io Lo sono Mazzaguanti Ok Ok Centrati Per uscire Andiamo a destra Raga Lasciamo l'arco Qui siamo tutti Dentro a scudo Ma che sono Trovando Il mio Mello Ma questi Entrano diretti Andiamo 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 Ammazzo Di 75 Così Scende Vado a vedere Dove sono Intanto Vado a vedere Intanto Vado a vedere Dove sono Dove sono Dove sono Dove è avere Le frecce qui accanto Per ricaricarle Tutti alla testa Li stiamo rispingendo Stiamo rispingendo Ma l'obiettivo È perdere Con gli uomini Il meno possibile Mi è cremata la mano Per un'arma Disso Ok Ho finito lo frecce Dove sta Ok 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 Verrà Tutti Di qui No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. andato per fortuna per fortuna abbiamo scampato a bella sta battaglia e ritornano ritornano porca miseria e devo richiamare sicuramente attaccano la città dovrei volutare a palla raga a palla esatto lo sapevo 320 hanno le core rotte queste città devo capire se faccio in tempo ad arrivare qui per reclutare prima che me la prendano madonna se sono scarsi questi ok 458 la battaglia iniziata entriamo no l'hanno presa cazzo nooo mannaggia eh qui è tosto è tostarella non è un compito facile per noi poi abbiamo troppi feriti questa cosa ci ha denneggiato un sacco vediamo vediamo 199 è mia ha sempre questo muro rotto è difficile da difendere è facile da attaccare mi stanno facendo veramente sudare ragazzi veramente tanto ce la siamo ripresa ok ragazzi la situazione è questa si sono riprese da nostri che vostro ma è un sfull cioè ce ne hanno fregate tre in pratica hanno 9 città si sono riprese alla grande io continuo ad attaccare di qua questa l'abbiamo presa questo castello è nostro e mi prenderei sanala però nel prossimo episodio ragazzi io per oggi mi fermo qui ho fatto tanto ho fatto tanti tagli ma la sono sudata di brutto vi saluto a presto e ciao ciao